Siamo pronti con l'edizione del nostro giornale, ma come vuole consuetudine vediamo prima la sigla e poi i titoli. Protocollo d'intesa, Regione Legambienta per il monitoraggio delle costruzioni abusive sul territorio regionale. Dal 2004 al 2023 ha emesse 6.197 ordinanze, ma sono state eseguite solo 598. L'amministrazione comunale di Cassano ha deciso la demolizione di due palazzine confiscate al boss Giuseppe Cirillo. Nasceranno 18 appartamenti di edilizia popolare. Il sindaco di Cosenza spinge per la costruzione del nuovo ospedale, non importa il sito, ha detto Vagliolise o altro, ma purtroppo si faccia. Il comitato fuori i veleni ha raccolto mille firme perché i veleni dell'ex Bertusola non restino a Crotone. Il piano di bonifica rimanga quello approvato nel 2019. Un giovane calabrese è stato arrestato a Messina. L'uomo viaggiava con un chilo di cocaina occultata all'interno dell'automobile. Ecco le immagini. Toccherà alla squadra di Vivarini scendere in campo nell'anticipo di stasera a Modena. Domani con inizio alle ore 16.30 toccherà al Cosenza. Viali e Vivarini incontrano la stampa. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Questa è una bella notizia, cioè un esempio per il resto del Paese. Perché la Regione e il Lega Ambiente hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per accelerare le procedure di demolizione di tutte quelle costruzioni che sono sorte in questi anni in maniera abusiva. Pensate, dal 2004 ad oggi sono state firmate e messe qualcosa come 6.197 ordinanze, ma di queste ne sono state eseguite solo 598. Alessia Antonucci. Quante volte alle nostre latitudini è capitato di assistere impotenti davanti a frane alluvioni mareggiate che scretolavano insieme al territorio case nella più totale disperazione di chi perdeva tutto. Una scrollata di spalle aditando spesso tutto alla natura. Eppure, la piaga delle costruzioni abusive in aree sismiche a rischio idrogeologico è ben evidente, come i danni al suo strato economico e sociale. Nonostante tutto, il fenomeno dell'abusivismo edilizio dilaga in Calabria. Stando ai report di Lega Ambiente, è tra le regioni più esposte alla pressione del mattone illegale, posizionandosi tra i primi posti per i reati sul ciclo del cemento. Le cause sono molteplici. Ad esempio, basso il tasso di trasparenza da parte dei comuni calabresi nel rispondere al monitoraggio di Lega Ambiente abbatti l'abuso. E tra lo scrivere e il fare c'è di mezzo tant'altro ancora, considerando che dal 2004 al 2023 sono state emesse 6.197 ordinanze di demolizione, ma solo 598 quelle eseguite. Le azioni ci sono però, dal commissariamento di diversi comuni alla demolizione di ecomostri come quello di Melissa. Tra questi è anche la sottoscrizione avvenuta nelle ultime ore del protocollo d'intesa tra la Regione e Lega Ambiente Calabria per il monitoraggio sull'abusivismo. La conoscenza di questo fenomeno attraverso la risposta delle diverse istituzioni coinvolte al monitoraggio proposto da Lega Ambiente costituisce un passo fondamentale per proseguire nella strategia di contrasto all'abusivismo edilizio intrapresa dalla Regione. Si tratta di un protocollo d'intesa che è il primo del genere in Italia attraverso il quale potrà essere realizzata nel corso dell'anno appunto un'attività di monitoraggio al termine del quale sarà redatto un rapporto che consentirà di valutare anche le dimensioni del fenomeno ed avanzare di conseguenza proposte per rendere più efficace l'azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio. Questa è l'accordo, la stipula di questo protocollo d'intesa l'avete sentito da Anna Parretta, diceva il primo in Italia. A proposito di demolizioni, vedo Arcangelo Badolati collegato con me perché c'è da registrare una bellissima cosa che arriva da Cassano all'Oionio perché sono state demolite due palazzine che appartenevano al boss Ciro Cirillo. Adesso ci saranno nuove costruzioni e verranno tirate su 18 appartamenti tutti di edilizia popolare. Arcangelo, questa è una bella notizia, ci muoviamo in questa direzione. Beh, è importante perché Cirillo, che ormai è morto da tanti anni ha rappresentato in quell'area della Calabria, centro-settentrionale Ionica un elemento di congiunzione tra l'Andrangheta e la nuova camorra organizzata di Cutolo prima e le bande dei napoletani successivamente. Un uomo che aveva un potere enorme e che colludeva spesso con elementi delle istituzioni, elementi dell'imprenditoria abitata dai faccendieri quindi un personaggio che è stato un simbolo purtroppo dell'illegalità e dell'Andrangheta in quell'area della regione. Il fatto che vengano demolite queste abitazioni e che lì sorgano degli alloggi popolari realizzati dallo Stato è molto significativo. Tenete anche conto che quella è una zona attraversata dalla violenza dalle intimidazioni da diversi anni ci sono stati gravi fatti di sangue quindi è un messaggio molto forte che l'amministrazione di Castano comune purtroppo colpito duramente dalle azioni dei criminali ricordate lì è stato assassinato un bambino di appena tre anni col nonno e l'amante del nonno quindi il comune di Castano lancia un segnale che secondo me va imitato e che è un segnale di riscossa, di rinascita che non può essere lasciato passare così nel silenzio sono d'accordo con la scelta che hai fatto anche il direttore di collocarla tra le prime notizie credo sia una notizia davvero importante per l'importanza, scusate il gioco di parole che la Siberia riveste in questo momento in Calabria dal punto di vista criminale a te Lalini noi entriamo in un altro argomento molto molto dibattuto al centro dell'interesse dei cittadini calabresi parliamo di sanità e entriamo nel dibattito che si è aperto ormai da tanto tempo relativo al nuovo ospedale di Cosenza dove costruirlo l'amministrazione comunale aveva individuato l'area di Vagliolise ma adesso pare ci siano dei ripensamenti e si guarda con attenzione nell'area dell'Università della Calabria dove è sorta da poco il corso di laurea in medicina ma sentirete adesso nell'intervista realizzata dalla nostra Rosalba Baldino che il sindaco di Cosenza, Caruso, dice va bene, noi abbiamo proposto Vagliolise ma se c'è un'altra possibilità vediamo, analizziamo insieme ma purché si faccia? Vediamo Il nuovo ospedale di Cosenza al momento resta solo un'ipotesi, un progetto su cui si dibatte non è una novità che l'amministrazione comunale Bruzia abbia sul sito su cui la struttura sanitaria dovrebbe sorgere una posizione precisa sancita dal Consiglio nel 2022 Questa collocazione nasce da un'interlocuzione avuta anche col Presidente della Regione perché c'era uno studio di fattibilità del 2017 della Regione Calabria che collocava appunto quale area migliore come sito ideale per la realizzazione di questa nuova struttura sanitaria appunto l'AB a Vagliolise Nel tempo però è maturata una nuova idea ed è quella di poter ubicare il nuovo ospedale vicino l'Università della Calabria vista l'istituzione della Facoltà di Medicina un nuovo corso caldeggiato dai vertici della Regione Calabria a cui il Sindaco di Cosenza lancia una sfida Il sito ideale in base proprio alla normativa nazionale per la realizzazione delle nuove strutture sanitarie che le vuole collocate in rapporto all'esistenza di una viabilità specifica di una linea ferroviaria vicina in base a questi criteri che oggi stanno alla base dell'individuazione dei siti migliori per la realizzazione delle strutture sanitarie Vagliolise ingiaggia tutto Nel dibattito acceso resta il problema concreto dell'ospedale dell'Annunziata oggi Policlinico Universitario in grandi difficoltà per mancanza di personale e problemi strutturali consapevole della situazione il primo cittadino ed è questa la notizia apre a nuove possibilità Per me il sito di Vagliolise rimane il sito ottimale però se lo vuoi fare fallo dove vuoi ma fallo perché c'è bisogno di questa struttura c'è bisogno per tutta l'area urbana ma anche per la nostra vasta provincia per cui facciamolo subito questo nuovo ospedale e soprattutto riempiamolo di contenuti Questo era il pensiero del primo cittadino di Cosenza ancora sanità perché c'è stato un confronto a più voci ieri a Cosenza proprio incentrato sul problema relativo al diritto alla salute si sono confrontati un po' di professionalità legate in questo settore e è venuto fuori il servizio che adesso vediamo Di sesto sanitario e nuovo ospedale il diritto alla salute è tra sanità pubblica e sanità privata è stato questo il tema dell'incontro che si è tenuto a Cosenza nelle sale di Villa Rendano Dobbiamo difendere e far sopravvivere e migliorare naturalmente il servizio sanitario pubblico finanziato con la fiscalità generale dove chi ha di più paga anche per chi ha di meno e questo sistema bisogna saperlo far funzionare e in questo contesto del funzionamento non ha senso parlare di sanità pubblica e sanità privata la sanità cosiddetta privata è quella a gestione privata ma è inserita a pieno titolo nel servizio pubblico e come tutti sanno non si paga un importante momento di riflessione di confronto con il coinvolgimento di esperti ed operatori del settore che oltre ad una disamina delle attuali emergenze e criticità hanno anche dato utili suggerimenti l'autonomia differenziata ci determinerà un danno e una frattura col nord che non sarà più sanabile e il rapporto Gimbe dice che per rendere le strutture del sud e parificarle come qualità alle strutture del nord avremmo bisogno di 50 miliardi di euro il problema è l'organizzazione e il concerto di tutti i vari aspetti della sanità che devono concorre unitariamente in un disegno complessivo e speciale e adesso affrontiamo un argomento lo stiamo seguendo da qualche tempo relativo alla bonifica dell'area dell'ex industriale di Crotone ieri abbiamo offerto alla vostra attenzione il quadro relativo al progetto di bonifica ma oggi sentiamo la voce del comitato fuori i veleni che hanno raccolto delle firme guardate Isabella Roccano i veleni dell'ex Pertusola non devono rimanere a Crotone chiara netta la posizione del comitato fuori i veleni Crotone vuole vivere che in pochi giorni ha raccolto oltre mille firme e che racchiude anime diverse tra loro anche politicamente che però hanno un obiettivo comune cioè far rispettare le scelte già prese nella conferenza dei servizi nel 2019 che stabiliscono che i rifiuti della bonifica delle due discariche frontemare vengano portati fuori Crotone e fuori dalla regione all'epoca era presidente della regione Oliverio che oggi aderisce al comitato la città di Crotone deve essere rispettata soprattutto devono essere rispettate le decisioni delle istituzioni che sono decisioni assunte non per capriccio ma sono decisioni assunte sulla base di studi analisi approfondimenti scientifici degli istituti preposti ISPRA ARPACAL istituti universitari eccetera che hanno proposto alla politica che poi si è determinata alle istituzioni che poi si sono determinate che hanno proposto di porre quel vincolo i pericoli sono tali le implicazioni sono tali se i rifiuti i veleni dovessero rimanere qui o meglio i veleni contenuti in quei rifiuti dovessero rimanere qui che comprometterebbero definitivamente la salute pubblica la salute dei cittadini il 3 maggio presso il ministero dell'ambiente vi sarà una nuova conferenza il rischio è che venga rimosso il vincolo di tutela ambientale consentendo così a Eni di lasciare tutti i veleni a crotone ma il comitato è pronto alla mobilitazione Eni non ha soltanto il compito di bonificare questo territorio ma ha il compito il dovere morale di restituire alla città quello che ha allevato in questi ultimi 40 anni e la battaglia sarà dura e speriamo che possa essere diciamo portatrice di vittoria per i cittadini di questa realtà la salute dei cittadini ribadiscono è la priorità in una città con un alto tasso tumorale i dati sono veramente inquietanti c'è a parte i tumori rispetto anche al resto della regione percentuali in più c'è da 0 a 29 anni una maggiore ospedalizzazione delle persone sempre così giovani per tumori allora di che cosa stiamo parlando questa è una necessità non si può parlare di sviluppo di una città se non c'è la salute e si è concluso oggi un interessante master all'università della Calabria che riguarda la questione legata al multirischio la pianificazione la protezione civile tutti argomenti forti sensibili verso i quali abbiamo maturato una grande sensibilità come ospite in studio c'è la professoressa Giovanna Capparelli grazie per essere qui allora questo master molto partecipato sì per fortuna sì un master in analisi appunto multirischio e pianificazione di protezione civile si riallinea perfettamente con il tentativo la necessità proprio di avviare una sensibilizzazione una rieducazione all'utilizzo del territorio questo master fondamentalmente mira a formare delle figure professionali in grado di supportare con le proprie conoscenze e competenze supportare nella valutazione nella mitigazione del rischio degli eventi quali frane piene inondazioni e terremoti ai quali siamo costantemente ormai abituati siamo ogni giorno colpiti da eventi con i danni al suolo gli effetti al suolo che quotidianamente ci capita di osservare quindi prevenire perché poi se no ci troviamo in situazioni a raccontare i disastri sì esatto diciamo il master così come un po' l'approccio generale che dovrebbe essere in qualche modo diffuso sia tra le istituzioni e poi anche tra le varie comunità e in ultimo ma sicuramente importante anche i cittadini una sensibilizzazione non soltanto alla consapevolezza del rischio all'autotutela in modo da evitare appunto di contare i danni ai quali siamo abituati grazie buon lavoro e vi raccontiamo adesso la raccolta di fondi dei soci di Civica Amica parliamo della biblioteca civica di Cosenza ebbene si sta facendo di tutto per salvarla e intanto sono stati raccolti dei fondi sono 20.000 euro ce lo racconta Rosalba Baldino l'assegno ben in vista è la cifra che l'associazione Civica Amica destinerà alla biblioteca civica di Cosenza lo ha stabilito l'assemblea dei soci l'assemblea di Civica Amica ha preso atto con grande soddisfazione ed entusiasmo dell'esito della raccolta fondi abbiamo raggiunto 20.000 euro che rimangono vincolati per la biblioteca civica di Cosenza la raccolta fondi continua e continuerà l'impegno perché pensiamo alla riapertura il 2026 della biblioteca vogliamo la biblioteca riaperta la vogliamo funzionale secondo i criteri più moderni e soprattutto destinata alla missione che gli accademici hanno voluto 125 anni fa utile per l'istruzione dei cosentini l'associazione riflette la coscienza civica della città che si batte per l'antico istituto di cultura e che ha ricevuto la gratitudine e la riconoscenza per l'impegno profuso da parte del primo cittadino con una missiva in cui si afferma che la biblioteca civica è priorità per Palazzo dei Bruzzi e Confindustria porta l'impresa a scuola tra gli studenti i ragazzi perché è giusto affrontare anche i temi riguardanti la possibilità che terminato il ciclo scolastico qualche ragazzo guardi esperimenti magari un'idea e metta su un'impresa Paolo Tarrarico Ecco le nuove generazioni quelle che crescono si formano e fra qualche anno ci si augura saranno professionisti e classe dirigente arriva però un momento nella loro crescita in cui sono chiamati a effettuare una scelta chiave che in buona sostanza risponde alla domanda cosa fare da grande una scelta complessa che va sostenuta con tutte le informazioni possibili per questo Confindustria e Cosenza ha organizzato una giornata di orientamento rivolta alle scuole altra istituzione che deve provare ad orientare i giovani Noi cerchiamo di indirizzare gli studenti verso le scelte future in particolare anche attraverso le scelte che fanno dei PCTO cerchiamo di orientarli a fare delle scelte giuste quindi ragazzi nell'arco dei tre anni scelgono vari tipi di percorsi in modo tale da valutare le opportunità che nel futuro potranno avere sia come scelte universitarie che come scelte nel mondo del lavoro La domanda che ci si pone è molto spesso quella relativa alle proprie inclinazioni ma anche ai settori in crescita rispetto ai quali c'è e ci sarà una buona domanda di lavoro Il primo consiglio è rimanere in Calabria perché è il tema che quotidianamente affrontiamo un problema davvero importante che la nostra regione sta soffrendo Il secondo consiglio è quello di guardarsi dentro guardare la propria indole se viene indirizzato su qualche lavoro su qualche attività che potrebbe formarsi qui in Calabria Questa era la scuola la scuola di imprese con gli studenti adesso da cronaca perché un calabrese è stato beccato a Messina in auto aveva un chilo di droga è stato arrestato Isabella Roccano Cocaina dalla Calabria alla Sicilia ancora una volta un corriere della droga calabrese è bloccato a Messina il giovane a bordo di un'utilitaria era appena sbarcato dal traghetto quando è stato fermato per un controllo dai finanzieri ai militari ha detto di essere un tecnico diretto a Catania per la riparazione di una caldaia ma il fatto che viaggiasse su un'auto a noleggio e senza avere con sé nessun tipo di attrezzatura ha insospettito le fiamme gialle che hanno così deciso di approfondire i controlli con l'aiuto del cane Gimli hanno scoperto un chilo di cocaina occultata nel portellone della vettura e avvolta nel cellofan la droga era impregnata di una sostanza oleosa e aveva un odore di petrolio stratagemma usato per confondere l'olfatto dei cani antidroga trucco che però non è servito il fiuto di Gimli ha consentito di individuare la sostanza stupefacente destinata alle piazze di spaccio siciliane la cocaina avrebbe consentito un ipotetico guadagno illecito di oltre 250.000 euro i numerosi sequestri di droga confermano la centralità del territorio messinese quale porta d'ingresso dello stupefacente nell'isola un punto strategico per il transito e il traffico di ingenti quantità di droga primaria fonte di guadagno delle organizzazioni criminali droga che viaggia anche via posta come conferma il sequestro sempre a Messina presso un locale spedizioniere di un plico contenente oltre 500 grammi di hashish siamo lo sport il calcio partiamo subito perché stasera c'è la prima gara di questa giornata l'anticipo vede impegnato il crotone a Modena ce ne parla Anna Franchino 13 punti di differenza in classifica Catanzaro e Modena si sfidano questa sera nell'anticipo della 33esima giornata la squadra di Vivarini fuori casa ha perso una sola volta nel giorno di ritorno e punta a riscattare lo stop casalingo con il Como l'obiettivo nostro è sempre quello di migliorarci e quindi questa è una partita che ci potrà far capire se abbiamo fatto tesoro di quello che è successo la partita precedente Albraia un match tra due squadre in cerca di vittoria l'undici di Mister Bianco non conquista i tre punti da oltre tre mesi serve smuovere la classifica per allontanare la zona calda mentre Iemmello e compagni puntano a consolidare e migliorare la posizione playoff il tecnico delle Aquile all'imbarazzo della scelta per l'undici da mandare in campo abbiamo recuperato l'intera rosa non abbiamo nessun giocatore fuori adesso il problema perché due devono andare in tribuna quindi sono delle scelte che mi creano molto amarezza perché non so proprio che sfumatura andare a pescare per giustificare magari il fatto che uno possa andare o due possa andare in tribuna quindi di conseguenza la squadra sta bene ha superato tranquillamente diciamo la partita ci siamo concentrati su quello che dobbiamo fare e adesso vediamo domani poi le scelte da fare e invece domani toccherà alla Cosenza davanti al proprio pubblico affrontare una squadra forte che si chiama Palermo ancora una gara fondamentale da affrontare nel migliore dei modi queste le parole di Viali nella conferenza che precede la sfida di domani con il Palermo il tecnico lo scorso anno ha esordito proprio al Marulla con i siciliani centrando una bella importante vittoria per 3 a 2 guardo anche io le ricorrenze la mia prima vittoria in Serie B alla seconda presenza con il Cosenza dopo Pisa diciamo la prima vera settimana di lavoro qui quindi sicuramente ho un bel ricordo però credo sia rimanga solo un buon ricordo nel senso che per quanto riguarda la partita di domani sono molto concentrato da quella per me la tabella per il finale di campionato si chiama Palermo in questo momento all'andata alla cavalcata di Canotto il suo gol hanno regalato i tre punti ai calabresi assetati di successi oggi più che mai non ci sarà Marras squalificato Gianfi e Voca sono tornati ad allenarsi in gruppo chi verrà scelto dal tecnico per scendere in campo già dai primi minuti dovrà comunque giocare concentrato sull'obiettivo salvezza abbiamo provato anche cose diverse perché dobbiamo essere bravi a cambiare anche in corsa perché dentro la partita ce ne sono sempre più di una e quindi ho l'idea molto chiare veramente la squadra mi ha dato dalla prestazione di Piacenza mi ha dato grandi sensazioni e sono convinto che la squadra domani farà una grande partita poi il risultato lo determineranno sempre gli episodi però avere l'atteggiamento corretto poi sposta gli episodi dalla parte giusta questi due tecnici come ogni venerdì vedo Jessica Castagna ciao Jessica raccontaci questa anticipo d'estate che avremo in questo weekend è così? esattamente ci attende infatti un weekend quasi estivo si potrebbe dire figura 1 con belle giornate di sole per via dell'inforzo dell'anticiclone subtropicale che proviene dal nord Africa e che ci mostra questo quadro sinottico che porterà delle correnti d'aria calda che sono evidenziate dal colore arancio rosso le temperature sono proprio in netto rialzo sia nei valori minimi che massimi chiedo la figura 2 e domenica sfioreremo addurittura i 30 gradi soprattutto nelle pianure nella piana del Crati nella piana di Siberi e nel marchesato di Clotone i venti sono principalmente deboli provenienti dai quadranti settentrionali fino a sabato in rotazione da domenica con le temperature in rialzo torna ad affacciarsi il rischio incendio figura 3 e abbiamo riattivato quindi il nostro servizio degli indici di pericolosità degli incendi disponibili quotidianamente sul sito cesma.unical.it slash cwf tra lunedì e martedì della prossima settimana però questa apparente estiva si metterà leggermente in stand by e arriverà una nuova perturbazione portata da una saccatura di masse d'aria fredda dal nord Europa che abbasseranno nettamente le temperature grazie buon weekend a tutti grazie Jessica come sempre puntuale e precisa io vi lascio qui l'appuntamento adesso è con palla al centro si parlerà di sport e di calcio il giornale torna più tardi grazie buon proseguimento previsioni per oggi nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti in serata sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni le borse europee proseguono ben intonate a metà seduta mentre i futures di Wall Street si muovono incerti a Milano il Fuzzi Mib guadagna l'1% il Fuzzi 100 di Londra più 1,3% l'Ibex 35 di Madrid più 1,1% il Dax di Francoforte più 0,9% e il K40 di Parigi più 0,8% il sentiment continuò a beneficiare delle crescenti aspettative che la BCE inizierà a tagliare i tassi di interesse a giugno ben prima che la Fed potrà avviare l'allentamento della sua politica monetaria a causa della persistente inflazione statunitense al via oggi la stagione delle trimestrali sguarda i conti di JP Morgan Wells Fargo e Citigroup dall'agenda macro a marzo l'indice dei prezzi al consumo finale in Germania ha registrato un più 0,4% su base mensile e un progresso del 2,2% su base anno e omologo indice al più 0,2% mese su mese e più 2,3% anno su anno a febbraio la produzione industriale nel Regno Unito è aumentata dell'1,1% su base mensile e dell'1,4% anno su anno sul forex l'eurodollaro ridiscende a 1,066 mentre il cambio tra biglietto verde e yen oscilla a 153,3 petrolo in rialzo con il Brent più 0,8% a 90,5 dollari e VTI più 1% a 85,9 dollari sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 139 punti con il rendimento del decennario italiano al 3,76% tornando a Piazza Affari sale in betta Amplifum più 4,1% in sciallo aumento di target price da 29 a 33 euro da parte di Equitasi seguita da Saipo in più 3,5% e a 2A più 2,8% mentre scivola in con Interpump meno 1% con le medite anche su Iveco meno 0,8% e Stellantis meno 0,7% grazie e al prossimo aggiornamento e al prossimo aggiornamento